Ciao benvenuto, benvenuta in questo nuovo video tutorial dedicato al Fire TV Stick. Nello specifico in questo video voglio affrontare un argomento che più volte mi è stato portato all'attenzione, ovvero molti mi hanno domandato. Andrea ma è possibile spegnere la Fire TV Stick? Beh la risposta è sì è possibile, ci sono diversi modi che ti consentono quantomeno di disabilitare la Fire TV Stick per un periodo di tempo illimitato e che quindi ti permette di non consumare energia quando appunto non stai utilizzando il dispositivo Amazon. Prima però da andare a vedere quali sono le cose che puoi fare con la Fire TV Stick per spegnerla o disabilitarla, ti ricordo che in questo momento se non l'hai ancora fatto di iscriverti al mio canale, lasciare un like e attivare la campanella. Allora andiamo a vedere quello che puoi fare per spegnere oppure disabilitare la tua Fire TV Stick per un determinato periodo di tempo. Allora vedi può capitare come nel mio caso cerco di fartelo vedere, nella mia versione di Fire TV Stick Lite non è presente il tasto fisico di spegnimento e molti non lo hanno neppure configurato o non riescono a utilizzarlo per riuscire a spegnere fisicamente la Fire TV Stick e quindi togliere la corrente che l'alimenta e che quindi vi fa assorbire corrente elettrica. Che cosa si può fare? Un primo modo è quello di scollegare la Fire TV Stick dalla corrente. Questo la spegnerà come qualsiasi altro dispositivo. Ovviamente è un intervento fisico che voi però potete per esempio ottenere anche non utilizzando una presa qualsiasi ma una presa smart. Collegare la Fire TV Stick ad una presa smart vi consentirà di spegnerla quindi togliere l'alimentazione del vostro dispositivo Amazon per esempio o tramite l'assistente vocale se compatibile oppure con l'app dedicata che gestirà quella presa smart. Questo è un primo modo ma molti non sanno che esiste anche una funzione all'interno della Fire TV Stick molto utile e che ti permette di mettere in stand by il tuo dispositivo Amazon. Come si attiva questa funzione? La troverai all'interno nel menu impostazioni poi la mia Fire TV e vedi qua nei vari menu che ci sono a disposizione c'è appunto la funzione stand by che come ti indica la didascalia questa funzione emette la tua Fire TV Stick in modalità risparmio energetico sì perché consumerà molto meno per poterla riattivare ti basterà premere il pulsante seleziona sul telecomando quindi basterà premere il pulsante seleziona ovvero quello centrale così per mettere in stand by ecco qua che infatti l'interfaccia disabilitata la tua Fire TV Stick. Come si fa per riattivarlo? Semplicissimo basterà ricliccare nuovamente il pulsante selezione centrale per avere tutto ripristinato esattamente come prima. Alcuni però potrebbero dire però sono costretto ad andare nelle impostazioni poi la mia Fire TV poi cliccare sulla voce stand by non esiste un metodo più veloce? Certo che sì esiste anche una combinazione di tasti sul tuo telecomando della Fire TV Stick che ti permette di accedere a questa funzione più rapidamente. Come si fa? Ti basterà tenere premuto per qualche secondo il pulsante con la casina questo vedrai che automaticamente ecco qua comparirà questo menu semplificato che fra le varie opzioni che ti mette a disposizione c'è appunto la funzione stand by anche in questo caso basterà selezionarla con il tasto centrale del telecomando e disattivarla con lo stesso pulsante. In questo modo avrai messo in stand by in modalità slip la tua Fire TV Stick quindi sarà dormiente fino a che non la riattiverai per l'utilizzo vero e proprio. Questo ti consentirà anche di ottenere un risparmio dal punto di vista energetico. Come visto la procedura è molto semplice spero che questo video sia stato di aiuto e se è così lasciami un like ed iscriviti al canale così come ti ho invitato e come invito sempre tutti coloro che seguono i miei video direi che per il momento è tutto ma solo per il momento andremini alias dot zivago ti saluta e ti rimanda al prossimo contenuto ciao a presto